Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Oggi facciamo una considerazione sulle strategie future del club rosso nero. Nello specifico sull'app del Milan, che consigliamo a tutti i nostri fan di scaricare, è disponibile sia su iOS, quindi su Apple, e su Google, quindi Android, e anche su Android appunto, su Play Store. Potete scaricare l'app del Milan dove oggi trovate appunto l'intervista che è stata condotta da sports leader nei confronti di Ivan Gazidis, che spiega con quattro strategie ciò che il Milan attuerà nei prossimi anni per riportare il Milan ai fasti di un tempo. E se vedete questa intervista molto, molto, molto interessante per gli amanti del management, per gli amanti dello sport management, vedete dei passaggi molto, molto importanti. Nello specifico Ivan Gazidis parla di modernizzare il club, perché il Milan, quando è settorizzato dal fondo Iliott, se non una gestione anche, oltre ad aver ereditato, una gestione pessima, quella quale di Yang Gong Li, il Milan di Gagliani, il Milan di Berlusconi negli ultimi anni, probabilmente ha subito anche una poca modernizzazione rispetto agli standard attuali europei che i club all'epoca, come Barcellona, Real Madrid, e tutti gli altri club di Premier League avevano e stavano già attuando a tempo. Quindi il Milan si è trovato molto indietro sul lato della comunicazione, sul lato del marketing, sul lato della digitalizzazione, delle strategie commerciali e sul legame brand, quindi Milan, e in qualche modo saper vendere il brand, saper commercializzare il brand a livello globale. Ivan Gazzini si ha spiegato tutto questo grazie alle strategie che il reparto di comunicazione, il management attuale, è molto rinforzato dall'arrivo del fondo Iliott, sta portando avanti. Pensate solo che sui social, su Weibo, che sarebbe una sorta di Facebook per il mercato cinese, il Milan quest'anno è in crescita del 70%, con conseguente aumento di follower, con conseguente aumento indirettamente di fan, con conseguente aumento di vendita di maglie, di introiti commerciali, di ricavi, di sponsor, e tutto questo sembra per lo più ai molti non considerato o non apprezzato, ma è qualcosa di eccezionale. Basti pensare che il Milan ha organizzato durante il Covid un evento, un tour digitale di casa Milan, tutto attraverso in distance, quindi tutto a distanza, tutto pubblicizzato sui social nel mercato orientale, e questo ha generato un impatto, un engagement, come si dice nell'ambito sportivo e nell'ambito marketing, un engagement, quindi un coinvolgimento di fan pari a 20 milioni di persone. Io ho seguito attentamente l'arrivo del Fondo Youth anche sugli altri canali social, quali Facebook e quali Instagram. Il Milan ha avuto un impatto, il Milan attraverso, grazie alla gestione di Ivan Gazetis, grazie alla gestione del suo management, ha avuto un impatto, basti pensare che lo scorso anno Facebook era 6 milioni di persone, adesso sono 8,6 i milioni di persone che seguono il Milan. Ai tanti sembrerà, ma cosa ci interessa? A lui interessa vincere. Ecco, Gazetis ha ribadito che la vittoria è l'elemento di marketing più importante perché attira sponsor, ma per ritornare ai fasti di un tempo servono anche strategie commerciali. Invito tutti, e magari la maggior parte di voi è già stata, se andate a visitare il stadio Bernabeu del Real Madrid, lo stadio del Barcellona, ma anche un qualsiasi stadio inglese, questi tour qua digitali, le app, i siti inter, la digitalizzazione come elemento di coinvolgimento dei fan è già molto presente, soprattutto perché attraverso le app, attraverso questi sistemi di engagement, le persone spendono per il club, le persone si sentono più coinvolte, si sentono parte della community. Quindi il Milan, oltre a in qualche modo a rinforzarsi costantemente, basti pensare all'anno scorso, il Milan quest'anno ha riscattato Rebic, ci ha riscattato Salame Kersa, ha rinnovato Ibra, ha rinnovato Akira, ha comprato Tonali, ha preso Diaz, con che mi dicono che a breve si discuterà già del rinnovo e del riscatto del ragazzo spagnolo, perché ha in qualche modo colpito tutti per la serietà, per le capacità tecniche, quindi in concomitanza di questo sviluppo, e l'acquisito Tonali, non dimentichiamolo, in concomitanza di questo sviluppo e miglioramento tecnico, il Milan sta procedendo molto bene, anche sul lato della digitalizzazione, del coinvolgimento dei fan, man mano che aumentano i fan, aumentano anche la visibilità, gli sponsor hanno una grande attenzione a tutto questo, il Milan riesce a generare un movimento importante, grazie alle nuove strategie di comunicazione, grazie alle sue strategie di anche commercializzazione del brand a livello mondiale, tutto questo è riportato dall'app, tutto questo sono le idee che caratterizzano chi studia sport management, chi studia, chi in qualche modo è abituato come Ivan Gazzini a lavorare in un settore, quello del calcio, soprattutto a livello di Premier League, dove in Premier League tutti, ma dico tutti i club, sono guidati da manager e non da ex calciatori, come era fino a qualche anno fa in Italia, quindi i manager hanno saputo trasformare il calcio in un'industria calcio, e quindi vedrete e vedete di anno in anno come i club inglesi siano molto forti economicamente, sono molto avanti rispetto ai club italiani e quindi per tornare a competere a livello mondiale anche, il Milan deve in qualche modo instaurare un percorso di crescita virtuoso, tecnico fondamentale, ma soprattutto anche di brand, di strategie manageriale e sono sicuro che con Ivan Gazzini tutto questo arriverà e il Milan tornerà, secondo me, in giro di 3-4 anni veramente, veramente competitivo. Ricordiamoci il Liverpool, anni di difficoltà e con Jurgen Klopp si è creato, passo dopo passo, un club che ha saputo vincere tutto in giro per l'Inghilterra, ma anche all'estero. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo ed iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.